Buongiorno a tutti ragazzi, oggi sono qui con un velocissimo tutorial, un tutorial davvero veloce. In pratica dovete solamente leggere queste istruzioni che vi ho scritto. Mettete in pausa il video e leggetele. È un tutorial facilissimo su come rerollare senza app e senza desistradare il gioco su Dokkan Battle. Senza root e senza niente. In pratica è velocissimo, come questo tutorial. Ho fatto anche la versione inglese, giusto perché so che questo canale ha anche scritti inglesi quindi. Eccovi anche la guida per la versione inglese. È un tutorial davvero facilissimo, una passeggiata e nulla, se vi è piaciuto e vi è stato utile, iscrivetevi, lasciate un like e ditemi la vostra nei commenti su come migliorare o magari se avete anche voi un metodo vostro personale. Quindi alla prossima, ciao!